Nicolò Martinelli, intanto cogliamo anche l'occasione per farti gli auguri di questo nuovo incarico all'interno di Rifondazione Comunista. Senti proprio un breve commento su questo pomeriggio antifascista a Petrasanta. Questa è la mezzilia che ci piace, è la mezzilia che si riprende le proprie piazze, i propri spazi, è la mezzilia che non odia, è la mezzilia che ama, che è aperta all'accoglienza di chi scappa dalle guerre e che oggi ribadisce che le strade sono di chi ama e non di chi quotidianamente fomenta razzismo, fomenta odio, fomenta paura per il diverso, ma soli bescieri fidi elettorali, come ahimè purtroppo succede anche qua a Petrasanta.